Abbiamo dato volentierissimo l'appoggio a questa iniziativa del Panathlon, associazione meritoria nel campo sportivo. Pordenone ospiterà la cosiddetta Pienetlon, cioè una staffetta di sei ore in cui chiunque, sia chi corre, sia chi vuole camminare, potrà contribuire attraverso la sua fatica, attraverso il suo sforzo fisico, a raccogliere fondi per una malattia terribile che è la Duchenne. L'appuntamento è il 22 ottobre in piazza 20 settembre. Io vi invito tutti a andare a vedere il nostro sito, i nostri social, in cui ci sono tutte le istruzioni necessarie per costruire una squadra. Si tratterà di una giornata di sport, di allegria, di divertimento e anche di solidarietà. Ribadisco, non occorre essere atleti, non occorre essere Ironman, è sufficiente avere un paio di pantaloncini e un paio di scape a ginnastica per camminare o correre un'ora insieme.